Vi dico qualcosa di nuovo? Allora, innanzitutto, se puoi farvi vedere se qualcuno qui l'ha letto, forse più o meno, più o meno, qualcuno sì, qualcuno no, bene, io lo do un po' per scontato, invece probabilmente non lo devo dare, scontato. Allora, che è successo? Diversi anni fa, Lorenzo Breivanti, che è stato un bravosissimo ginecologo, ha introdotto questo concetto di endogestazione e di esogestazione, cioè, cosa succede? Si parla di un controllo.